E qui è dove avviene la magia. Guarda questi vestiti! Non mi avevi mai portato qua su prima! Ho comprato tennis, missione subarte! Guarda qui, campione di Kung Fu, eroe del campus, con gagliardetti abbinati, eh? Figlio dei fiori! Oh, Ken! Nessuno apprezza i vestiti qui, Barbie. Nessuno. Ken, ti va di sfilare per me con qualche completo? Solo un paio. Oh, I'm free now! Grazie per la visione!